Dopo una lunghissima attesa oggi parleremo di Tricky Tactics Nel video di oggi vi mostrerò tutte le nuove mappe, i nuovi Trickster, le nuove Emoticon e i nuovi Avatar Ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like, iscrizione e campnellina E partiamo subitissimo Eccoci nella schermata di oggi Questo sfondo l'ho fatto io quindi grazie, grazie, lo so, è bellissimo, lo so, lo so, lo so, grazie Anche se il 90% o meglio quasi tutto quello che vedremo oggi non è stato fatto da me Perché io non mi occupo dei render 3D come la mappa che stiamo vedendo adesso Non mi occupo delle illustrazioni, delle Emoticon, io mi occupo dell'interfaccia grafica Quindi quando il gioco uscirà il 90% delle schermate che vedrete del gioco sono state sistemate tutte da me Le vedrete quando il gioco uscirà, forse a novembre Ne riparliamo in un prossimo video, ne riparliamo in un prossimo video di quando uscirà Tricky Tactics E lo potrete provare, manca davvero poco Partiamo con la primissima mappa, questa qui è la mappa del villaggio Quella iniziale che si prova fin dall'inizio, quindi appena si entra all'interno di Tricky Tactics Tutti quanti proveranno questa mappa La precisazione da fare prima di iniziare è che tutto quello che vedete in questo momento è lavoro in corso Quindi se vi piacciono come sono ora, bene Ma sappiate che adesso sono molto a molto più belle Solo che ancora non ve le posso mostrare Comunque, questa è la primissima mappa Molto bella, con un laghetto, zona di campagna, zona un po' della fattoria Con le varie zone agricole, il laghetto, il porto Molto carina, secondo me una delle più belle Ma passiamo subito alla seconda mappa Perché esistono varie mappe per ogni singolo set E i personaggi che vedremo dopo, anche chiamati Trickster, sono a tema di ogni mappa Comunque, la seconda mappa di oggi è la Mana Forest La foresta del Mana è una mappa tutta un po' notturna Ci troviamo in una foresta con delle case un po' stile fatato Infatti ci troviamo in una zona magica Con portali, liquidi, spirituali, cose assurde Infatti parliamo di una sessione, una parte del gioco un po' più fatata E anche i personaggi, ragazzi, saranno collegati in quella mappa Anche se ancora non li andremo a vedere Invece, come ultima mappa L'ultima che è stata fatta in questi giorni, in quest'ultimo periodo La Scarlet Cave La Caverna Scarlatta Infatti questa mappa, ragazzi, è al terzo livello Terzo set E di cosa si tratta? Ci troviamo in una miniera Dove ci ispiriamo un po' a Minecraft E alle miniere di Minecraft Con la zona verde fatta di erba Mista la zona delle pietre Con gemme di rubino Gemme di diamante Piccoli laghetti interni Zone di miniera con i minecart Lanterne È molto bella Secondo me è una delle mappe esteticamente più dettagliate Ma pure bellissima, ragazzi Davvero assurde, davvero assurde Ditemi nei commenti qual è la vostra preferita Per me sono tutte davvero fantastiche Ma ora passiamo ai Trickster Quindi ai personaggi in sé per sé di questo gioco Mi raccomando, ragazzi, un bel like Perché quale altro creator in Italia vi crea un gioco? Cioè, ci hanno distrutto Clashmini E Kirri, super fan di Clashmini Lo sta ricreando insieme a un team di gente bravissima Per voi, ragazzi Per voi fan di Clashmini Ma un like Un like, iscrizione solo per questo Comunque il personaggio che stai vedendo al momento Si chiama Archer Infatti questa qui è l'Archerina Con i capelli verdi Cappello un po' con la piuma in stile Robin Hood Archerina Arco nella mano destra E freccia nella mano sinistra Un personaggio davvero davvero tanto carino Ovviamente il suo compito sarà quello di fare un po' tiro con l'arco E abbiamo anche delle modicon Infatti vediamo le modicon per ogni trickster La prima modicon è l'Archer con gli occhi infuocati Arrabbiatissima Bella, bella, bella Vi ricordo che queste qua sono solo alcune delle modicon Ce ne saranno altre La seconda modicon invece è l'Archer Un po' così imbarazzata Con gli occhi aperti Spalancati Anche questa molto molto carina Quindi top Per quanto riguarda l'Avatar Abbiamo la nostra Archerina Con gli occhi un po' socchiusi Che sbuffa Arrabbiata Carino come Avatar Non è il mio preferito Però molto molto bello Prossimo personaggio di oggi Il Butter Forse è il mio trickster preferito Insieme a uno che vedremo verso la fine Un personaggio bellissimo Dovrebbe essere una trickster Capelli biondi Fascia in testa In mano c'ha una mazza da baseball Con una X sopra Fatta con dello scotch Non lo so Bellissimo ragazzi Un personaggio fantastico Il suo compito sarà quello di dare mazzate immagino Comunque Ecco la sua primissima modicon Che fa così con la mano Con gli occhi molto arrabbiati Un sorrisetto Bellissimo Un personaggio davvero davvero assurdo La seconda modicon è sempre la Butter Con un cuoricino che fa la manina così Molto molto carino come personaggio Uno dei miei preferiti forse Invece come Avatar Anche questo ragazzi L'Avatar è qualcosa di assurdo L'Avatar è fantastico Abbiamo sempre la Butter Che si fa così Con il fango Pronta per andare in guerra Per essere combattiva con la sua ascia Uno dei personaggi più fighi di Trigidattics Prossimo trickster Abbiamo il Buckter Buckter Non so come si dice Comunque Questo personaggio che ha un secchio in testa Con dei baffoni giganti Sembra un po' uno youtuber italiano Nasone bello rosso Con questi baffoni Un secchio in testa In mano c'ha un cucchiaio E poi a sinistra ragazzi Tiene un pollo sotto braccio Bellissimo Bellissimo Dovrebbe essere uno chef Non so in realtà Qual è il suo compito La sua abilità Comunque molto bello Ecco invece la sua prima emoticon È lui Con una gocciolina d'acqua Che gli cade dalla testa Sembra essere spaventato Un po' in uno stato di ansia Mentre la sua seconda emoticon È sempre lui Che però dà un bacino Con così Con la mano Molto carina anche questa emoticon Per quanto riguarda Per quanto riguarda l'avatar Un avatar Iconico Per me personalmente Abbiamo la sua faccia Bella zoomata E perché per me è iconico ragazzi Perché quando io lavoravo All'interfaccia grafica Del gameplay Quindi quando giocherete voi A trichidattics Se funzionere di personaggi Attaccherete Come su Clash Mini Quindi tutto quello che vedete È stato pensato E disegnato da me Quindi bellissimo E l'avatar che avevo come esempio Era sempre quello del Bacter Interessante Vabbè così un piccolo Piccola curiosità Passiamo al prossimo personaggio Il Dart Rower Uno dei personaggi ragazzi Esteticamente secondo me più bello Guardate quanto è bello ragazzi Quanto è bello Dovrebbe essere un ragazzo Con questa bandana rossa Che lancia proiettili Lancia tipo freccette Come se giocasse a freccette Ispirato un po' Il personaggio di Clash Mini Ha un orecchino Sull'orecchio sinistro Un dente dorato È un personaggio Veramente veramente assurdo E quindi avrà secondo me Questa potenza Di lanciare freccette Velocissimamente Bello La sua prima emoticon È lui che si tappa la bocca ragazzi Bello Con una piccola gocciolina d'acqua Che iede dalla testa Come secondo emoticon Invece è lui che fa Un po' la faccia curva Molto interessante Sono tutte bellissime Cioè ragazzi Ogni emoticon è meglio dell'altra Cioè sono davvero assurde Per quanto riguarda invece L'avatar Questo è davvero bello Il Dart Thrower Che ha un target E lancia la freccetta Verso il target Bellissimo avatar Ditemi qual è il vostro preferito Nei commenti ragazzi Prossimo personaggio Il Farmer Esattamente il Farmer Di Tricky Tactics Capelli rossi Spiga di grano in bocca Cappellino di paia E in mano c'ha una Un coso Non mi ricordo il nome Avete capito Comunque un classico contadino Bellissimo ragazzi Un Farmer Un contadino Bello Un bel personaggio Non so quale sarà Il suo scopo Toccherà vedere Tutto quello che fanno Questi personaggi Comunque come prime emoticon Abbiamo Lui Il Farmer All'impiedi Ed è una delle pochissime emoticon Di un personaggio All'impiedi Interessante Con una spiga di grano Gigantesca Come prossimo emoticon Invece abbiamo il Farmer Che fa un bel pollicione in su E dei like Che voi dovete lasciare In questo momento ragazzi Ve lo dice il Farmer Peffozza Per quanto riguarda invece L'avatar Abbiamo il nostro carissimo Farmer Che esce da Un campo di grano Bellissimo Dormi sepolto In un campo di grano Il Farmer esce con la testa Easy Prossimo personaggio Lo gnomo armato di ascia No in realtà si chiama Gnomo da giardino Però è bellissimo ragazzi Cappellino rosso Baffettoni giganti Barba bella folta E zainetto dietro Un vero e proprio gnomo Ed è infatti anche più piccolo Rispetto agli altri Trickster Anche se da qua non si capisce Però in game È un pochino più piccolo Cosa fa questo gnomo Non lo so ragazzi Però Ecco la sua prima emoticon Lui che c'è un po' tipo così La pernacchia Che gli esce tutta la bava dalla bocca Proprio una classica cosa Che farebbe un gnomo Come secondo emoticon Abbiamo lo gnomo da giardino Così con le mani protese Che ci prego un attimino Non mi fare del male Bellino Per quanto riguarda l'avatar Abbiamo un avatar Un po' assurdo Abbiamo lo gnomo da giardino Senza cappello Con due peletti in testa Con pochissimi capelli Due corna viola giganti Sembra un po' da supreme E questa faccia Da diavoletto Interessante Non me l'aspettavo un avatar così Comunque bellino Prossimo personaggio Prossimo trickster Abbiamo l'Eymaker Eyemaker Non so chi sia ragazzi È un bambino Sembrebbe essere un bambino Che è stato bloccato dentro del fieno Cioè non si spiega Perché c'ha una Una balla di fieno attorno Cappellino azzurro Un po' tipo stile notte Sempre se non è una ciotola E nella mano sinistra C'ha una pala Vabbè ragazzi Il suo primo emotico Nel lui che si copre col cappellino Che sembra quasi una ciotola Comunque lui che si copre E l'altro emotico Nel lui che fa così Pace Molto bellino Cioè ragazzi Le sono fantastici Sono tutti troppo Troppo pucciosi Per quanto riguarda il suo avatar Forse è l'avatar più bello Di Trichidattics Lui così Con delle stelline negli occhi Che ricorda un po' le stelline di Clashmini È uno degli avatar più belli del gioco Davvero davvero assurdo Prossimo trickster Un'icona di Trichidattics Abbiamo infatti il nostro spaventapasseri Con una bella testa da zucca Bella folta Una bella zucca Fatto tutto di fieno Un cappellino Fatto di paglia Guanti Vestiti Un personaggio interessante Con una sola gamba Infatti Chissà quello che farà ragazzi Cioè spaventa gli uccelli Staremo a vedere Emodicon È lui che fa un urlo Che ci spaventa con la sua lingua di fuori Non so come è possibile Che uno spaventapasseri Abbia pure una lingua Non facciamoci domande Per quanto riguarda l'altro emoticon È sempre il nostro spaventapasseri Ci fa tanti cuoricini Con l'emodicon WU Bellissima ragazzi Cioè raga Emodicon stupende Emodicon stupende Ci vuole un emoticon Però un po' stile minor Una bella emoticon tossica Per quanto riguarda l'avatar Abbiamo sempre lui Lo spaventapasseri Circondato da fulmini Da lampi e tuoni Questo perché immagino Che gli spaventapasseri Quando rimangono sotto la pioggia Da soli Un po' si spaventano Un'interpretazione interessante Prossimo personaggio Che un po' mi assomiglia Abbiamo Lo slinger Vi giuro Non l'ho creato io Un po' un pochino Mi assomiglia Forse per i capelli Comunque cosa fa questo qua Ha nella mano sinistra Una fionda E lancia sassolini Con la fionda Sfortunatamente Al nostro bellissimo personaggio Gli manca l'occhio sinistro Probabilmente Si è colpito da solo Con la sua stessa fionda Un genio Comunque un personaggio Troppo carino Molto molto bellino Per quanto riguarda L'emodicon Abbiamo lui che se la ride Dal lacrimare Un'emodicon ragazzi Assurdo Davvero davvero bella E la seconda emodicon È lui che saluta Quindi ragazzi Cioè bellissime Tutte bellissime Queste emoticon Passiamo subito Al suo avatar Lui che lacrima Dagli occhi Dall'unico occhio Poverino Davvero devastato Dall'universo E vabbè ragazzi Un personaggio assurdo Ultimo personaggio di oggi E poi vi spiego Perché ultimo personaggio Di oggi Abbiamo il taglialegna Dovrebbe chiamarsi così Ah infatti Una sega in mano E nella parte sinistra Nella mano sinistra Dovrebbe avere Uno scalpello Non lo so che cos'è Comunque Baffetto viola Occhio un po' Con una cicatrice Bello Vestito pronto Per tagliare gli alberi Un bel personaggio Prima emoticon Lui con la sega in mano Che ti fa un occhiolino Un po' pericoloso Seconda emoticon Lui timidino Così ragazzi Cambia da un momento all'altro Il suo stato d'animo Molto molto bellina Andiamo a vedere l'avatar L'avatar è lui Con un piccolo tronco Pucciosissimo in mano Che ti fa l'occhialino Mentre lacrima dall'altro occhio Perché non so Ha ucciso un tronchino Ha ucciso un tronchi Avete capito la battuta Non lo so ragazzi Non lo so Questo è tutto per oggi Ma adesso vi chiederete una cosa So tutti i personaggi del gioco No ragazzi La particolarità di Trigidactics È che per ogni mappa Faccio l'esempio La prima mappa che abbiamo visto Quella lì della campagna Ci sarà un set di personaggi Tutti tema campagna Abbiamo visto che c'è il contadino Lo spaventapasseri L'ognomodagiardino L'arcerina I due ragazzi che giocano nell'erba Slinger E la bilbatter Tutto un po' a tema Campo La seconda mappa Foresta Avremo il taglialegna Ed essendo che pure una foresta magica Avremo probabilmente Spiritelli magici Personaggi fatati Fate Personaggi un po' in stile Natureborn E così via Poi abbiamo la terza mappa La caverna E là potrebbero arrivare personaggi Che ancora non sono stati annunciati Ma ad esempio Minatori Trivelle Spiritelli delle caverne Golem Pietre che prendono vita L'immaginazione È davvero assurda Dentro Trigidactics Potete immaginarlo all'infinito Immaginate un tema Per una mappa Non so Tema fast food Tema spazio La qualsiasi Per il tema spazio Puoi creare un astronauta Un alieno Di tutto e di più Per il tema invece Fast food Puoi creare un hamburger Che prende vita E cammina Di tutto e di più Detto ciò ragazzi Io dopo questo video Che sono contentissimo Di aver fatto Raccuando un bel like Iscrizione e campanellina Per supportare questo gioco Perché io lo sto creando Insieme ad altre persone Insieme ad un team fantastico Facciamo che questo gioco Parte proprio dall'Italia Facciamolo esplodere in Italia Mandate questo video A tutti i creator italiani Che conoscete Trigidactics Prenda il volo E vi ricordo che A novembre il gioco Si potrà provare Ma ne parliamo in un altro video Detto ciò guardate il video Che sono appena persico accanto Che sono più l'altro Fate l'abbonamento Per supportarmi E noi ci vediamo In un prossimo video Di Trigidactics Ciao ciao